Noi stavamo un po' riguardando gli episodi che Gioco Forza hanno condizionato questa partita, stavamo proprio vedendo un fallo su Diabatè in occasione del colpo di testa mancato di Guilherme sembrava fallo, Diabatè si è anche un po' lamentato, ci sono stati anche i due rigori, soffermandoci prima, poi dopo parleremo anche della prestazione perché c'è da parlare anche della prestazione, però come l'avete vissuti voi in campo questi episodi? C'è stata tantissima amarezza nel momento che l'arbitro al primo rigore dice che non è fallo, poi è andato a vedere la VAR e purtroppo ha dato il rigore a loro. Questo fallo a fuori di Diabatè dalla panchina sembrava, anche noi abbiamo protestato per il fallo, come lui ha protestato con l'arbitro, però non capisco il motivo perché con noi non vanno a rivedere gli episodi e sono sempre convinti delle loro scelte. Un benevento che aveva dimostrato di stare in partita già col Verona poteva essere uno scontro salvezza se i giallorossi avessero avuto una posizione in classifica diversa, un benevento che ha dominato, un benevento che si è fatto vedere anche contro la Juve, ha giocato a viso aperto, non ha avuto paura, Allegri ha dovuto rispolverare la carta di Higuain, insomma veramente c'è tanta amarezza perché questa Serie A poteva essere tenuta ben stretta nelle mani vostre. Certo, partita dopo partita stiamo dimostrando tutte le nostre forze, con il Verona abbiamo fatto una grandissima partita e penso si sia visto, oggi lo stesso, infatti abbiamo messo in difficoltà, penso se non la più forte, una delle due o tre più forti d'Italia e c'è tantissima amarezza perché comunque vedendo queste partite ti rendi conto che poteva essere davvero totalmente un anno diverso da quello che stavamo facendo. Allora, prima di cedere la linea allo studio, in tante altre occasioni ha colpito la tua tecnica, la tua qualità. Oggi mi ha colpito particolarmente la personalità Enrico, non avevi paura di andare in contrasto contro giocatori che venivano appunto da un appuntamento fondamentale in Champions. Sei giovane ma la personalità non ti manca. Certo, è una cosa che mi porto fin da piccolo, mi hanno sempre insegnato che come io ho due gambe e due mani, lo stesso l'hanno anche loro, quindi io metto tutte le mie armi, do tutto quello che posso fino alla fine e poi vediamo, se loro dimostrano di essere più forti di me in campo hanno ragione loro. Certo, ma dopo il 2-2 noi penso che ci siamo alzati tantissimo e stiamo facendo la nostra partita, poi però gli episodi hanno dato favore a loro, un calcio di rigore ha cambiato la partita. E sulla questa differenza tra Napoli e Juve? Sono due squadre fortissime, giocano un calcio diverso, però a me piace Napoli come gioca, però sono due squadre veramente fortissime. Oggi mi ha impressionato, è un terzino fortissimo, infatti è uno dei terzini più forti al mondo. Io davvero lo dico a tutte le persone che me lo chiedono perché me lo stanno dicendo in tanti. Ora sono qui, spero di stare altri anni e do il massimo per questa maglia. I primi dieci minuti abbiamo sofferto, ma ce l'aspettavamo che iniziavano una partita in questo modo. Siamo stati bravi a tenere e poi abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, infatti il primo tempo è stato giocato alla pari, ma anche al secondo. Siamo stati molto sfortunati. No, ricordiamo che la società lo ha blindato, il tuo contratto è fino al 2021? 21. Fino al 2021, quindi molto dipenderà anche dalla società, da quale sarà la decisione della società, anche se dovesse arrivare un'offerta importante e Enrico chiedere anche di andare in prestito, magari la società lo farà. Però sicuramente è una scelta della società perché lui è un po' il faro del settore giovanile, l'orgoglio, merito anche di De Zerbi. Quanto devi a De Zerbi che ha avuto il coraggio di farti esordire? Ti giuro non ho un valore, non riesco a dargli un valore. È stato, penso, devo dirgli 3.000 volte grazie perché il merito è soltanto suo, è la società che ha sempre spinto sui miei valori e niente, io ho sempre lavorato e aspettavo questo momento.